per la serie mercoledì capistrellani siamo di nuovo a narrarvi una partita dei granata in mezzo alla settimana circostanza tanto fortuita quanto particolare anche se in un giorno di festa con un match di cartello le premesse sembrano ideali per quanto non è proprio una di quelle giornate estive che spingono a godersi il gioco del calcio piove al limite della neve gelo nell'aria e per terra noi ci stringiamo nei nostri miseri panni e qualcuno sceglie di godersi la partita a modo suo il soggetto in questione non è uno qualsiasi pensi mister bellesco qualificato e deciso a vivere la partita appieno con tutti i suoi risvolti al limite della giornata da tregenda il destino lo premierà per il coraggio in un incontro e fatica a decollare bloccato come fra due 11 di livello che si studiano all'inverosimile e faticano così a produrre azioni del gioco degne di nota la prima cade addirittura alla mezz'ora ma partiamo col botto perché vi facciamo vedere la rete del vantaggio ospite fasi confuse all'interno dell'area di rigore capistrellana ci scappa anche qualche colpo al limite o forse oltre ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e così mariano ringrazia deposita un tiro sporco in diagonale che non lascia scampo a digirolamo 1 a 0 frentano che granata provano a neutralizzare subito con de meis alla conclusione al 32esimo ma lo specchio della porta rimane off limits per i palentini il lanciano dal canto suo continua a tessere la ragnatela in chiusura di tempo trova addirittura il raddoppio con il solito iseni opportunista e chirurgico sottoporta negli spogliatoi sul doppio vantaggio lancianese la ripresa sembra segnata in partenza invece il capistrello venderà carissima la propria pelle quindicesimo cross spizzato in bello stile da fantauzzi e lesai deve superarsi per evitare la beffa palla in angolo sugli sviluppi del quale lo stesso fantauzzi colpisce per la serie passavo di lì ma il risultato è comunque valido e apprezzabile per un match che si riapre e che vivrà la sua ultima mezz'ora sul filo dei nervi e delle emozioni 17esimo eduardo de meis carica dalla distanza e vede il suo cuoio andare ad incocciare beffardamente in pieno l'incrocio dei pali capistrello in preda furore orgiastico lanciano un po sulle gambe e aquino prova così a sparigliare un minuto più tardi ma viene rimpallato in angolo ventesimo sembra fatta per lo stesso aquino che percorre praterie in diagonale senza essere contrastato è un po egoista e la conclusione finale non lo premia perché l'estremo frentano respinge di piede alla garella dei tempi mitici 26esimo tocca a daniele di gironamo provarci ma la botta sul primo palo trova di nuovo il piedone di elesai a tarpargli le ali scende il capistrello campo pesante gambe pesanti anche per i granata ora e l'occasione seguente così arriva solamente al 43esimo quando aquino sempre lui si gira calcia a mezza altezza ma il portiere ospite attento e vanifica si rivede il lanciano in chiusura di match ma il neo entrato cardone dalla distanza pallonetto non pesca il rettangolo difeso da mario di girolamo cinque minuti di recupero e alla fine i rossoneri possono andare a festeggiare sotto la curva occupata dai propri sostenitori con la piena consapevolezza di aver ottenuto tre punti di platino gialluca giordani i rimpianti ci sono a iosa ma i rimpianti ci sono soprattutto per il secondo tempo della squadra dopo un primo tempo molto bloccato dove purtroppo sono usciti due gol loro il primo per me avete visto tutti quanti palesemente irregolare l'arbi non ha fischiato non capisco perché secondo beh è stata una palla buttata in mezzo una seconda palla sono riusciti a fare gol però diciamo poi il secondo tempo c'è stata solo una squadra in campo l'abbiamo messi sotto abbiamo creato tanto e purtroppo non siamo riusciti a arrivare al pareggio mi dispiace solo ecco voglio dire perché dopo uno sembra che si vuole sempre lamentare degli albi però oggi gli albi l'arbi l'arbi ci ha veramente impedito e ci ha penalizzato fortemente perché regalare un godi il genere a una squadra come Lanciano che è la signora squadra ha indirizzato fortemente la partita e poi non mi è piaciuto insomma anche il metro per dare il recupero perché non si può dare tre minuti entrata l'ambulanza sei sostituzioni altri episodi di gioco interrotto ha dato solo cinque venuto il recupero vabbè andiamo avanti così Davide Valbonesi è allenatore in seconda del Lanciano allora una prestazione tosta cagliarda contro un avversario difficile una vittoria a Valedò sì oggi ci siamo levati un'altra bella soddisfazione la dimostrazione che questo gruppo è eccezionale sia sotto il profilo delle persone sono sono dei veri uomini e e quindi siamo ancora più contenti per quanto riguarda la partita è stata una partita molto difficile incontravamo una squadra in forma una delle più in forma del campionato però insomma noi stiamo bene altrettanto quindi abbiamo fatto la nostra partita e l'abbiamo anche meritata insomma